Oggi parliamo di moduli aggiuntivi e di come si può modificare la carburazione in un mezzo di iniezione elettronica. Mi chiama HMF Optimizer ed è uno dei nostri moduli aggiuntivi per la modifica della carburazione nei mezzi con alimentazione di iniezione elettronica. È un sistema di facile installazione che, mediante degli spinotti AT, bypassa la connessione tra la centralina elettronica del mezzo ed il sistema di iniezione. È già pre-regolato ma volendo si può anche personalizzare le impostazioni. Non dà cavalli ma far andare molto più forte il vostro ATV in quanto ne migliora notevolmente la combustione. Dopo l'installazione è necessaria una prova su strada per verificare se le impostazioni tre inserite in fabbrica sono soddisfacenti per le vostre aspettative o vanno modificate. Vedrete che rimarrete stupefatti dal miglioramento in termini di prestazioni. Questo e tanti altri prodotti le trovi su www.crocianigroup.com il tuo KANAM Specialist